Il PRP è una tecnica di biorivitalizzazione, una tecnica di medicina rigenerativa che si effettua con il plasma dello stesso paziente. Quindi si fa un piccolo prelievo di sangue, da questo prelievo si tiene del plasma che è un plasma arricchito di piastrine di cellule staminali, si aggiungono alcuni attivatori e si inietta sul volto sulle parti che devono essere biorivitalizzate. Quindi si riesce ad avere un incarnato migliore e molti ci dicono che si devono truccare molto meno, che è una cosa che noi interessa proprio questo concetto del no makeup, cioè di avere una pelle che non deve essere truccata.